Clubhouse in the house Caida in tunnel eh Rimane in tunnel e lo sto tornando dentro E' ancora in tunnel, mi ha lasciato come un T5 di vita, continua a pingarlo quello Ok Preso Attenti che lo smoke potrebbe arrivare alla scala Ok Sono tutti due sotto Pranto Vai vai Arrivo Sono tutti due in bomba Coridoio a bomba Occhio là c'è un boccolo Ferito smoke Adesso Buono E' in bomba in teoria Bella Si ma il Legion no è rientrato, l'ho preso Oh Nice Osnort Teos, metà vita Pulse Dai Artra Hai sparato mezz'ora al muro Lucen Bello mio Grazie mille per la sub Dai bello, è qui a destra Dai Più che dirti dov'è sto gioco cosa ti deve dire Anche come si chiama Si Si Va bene dai Mi hanno regalato un round Merda No no basta Ti ho preso in testa Ti voglio te Lesion 55 di vita L'ha preso Aperte tutte le bottole Voi c'è il drone Voi c'è il drone Voi c'è il drone Si Si bene Sono tre in garage raga Non riesco Non è vero Presa i bana Credo Si si i bana Ma che ce ne sono altri due Ma che ce ne sono altri due là In L'ha preso un lesion Ho preso un lesion Io boh che è laggata Qua Ah non sono Mettere il drone Ferimento 1 Hai entrato montagne Ok Preso montagne Un altro inferimento Il defuser è qua eh Uno è da qua eh Uno è morto Lui che avevo messo inferimento Da qua qua corridoio È uscito Preso Da qua da qua corridoio Ti fa il full team Da corridoio raga Posto 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 Bella Bella Le manine stanno riniziando a funzionare Se quello piglia il castle fa la mossa Che mossa? La mossa speciale Dai oh boy Che lag eh Dai Raul Mi hai bloccato tutto Non mi faccio rimuovere Dove l'ho preso un nemico col gu? Sono entrati su bomba di B eh Ok Presa green lock Raul vuoi che ti faccio il buco qui? Eh Uno è da qua Oh 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 Sono in bomba raga Sì Ok Uno a terra Stanno plantando Sì Due a terra Aspetta che arriva anche Demabel Eh ma siete due da stesso lato L'ultimo nemico rimasto Apri a destra Bel aprili a destra È in bagno No al bagno Ma avete fatto morire tutti e due? Cosa siete all'elementare in fila indiana siete entrati? Non è vero beh Da due come voi no sta fraidata in fila indiana Sono entrati Da dove? Da Perazino Hanno perdo Twitch knock Sono entrati io Diffuser Uno di vita asce Asce uno di vita da dietro Eh raga mi ha pushato uno Qua da garage sul terrazzino il diffuser dove ho fatto fuori io termite Sta plantando eh Plantano La squadra dell'acqua ha attivato un disinnescatore Oh ma perché? Ma perché mi fa ste cose? Oh no boys C'è una finestra grande come la tua madre lì dietro A te ci vai di schiena A te ci vai di schiena Non è vero dai Io voglio bestemmiare quando vedo ste robe Io... dove va questo? Ho fatto la passeggiata dai Non è vero Non è vero Braccia Non è vero Oh raga chiedo scusa per la partita però Ma smetti di chiedere scusa ogni round Ma che sono il parroco che ti devo confessare Fatta asce? Sono scesi sono scesi Da dove? Da... Al botola quella di bar Ok Sapete dove sono? Sì una è scala qua Ma sono rimasti in due Sì uno da qua E l'altro dovrebbe essere di là Di là dove? Qui? L'ho privato Sì sì Non è vero Non è vero Sotto botola di cucina Sotto bravo Sotto Bravi raga Bravi Grazie vannino Grazie vannino Per avermi dato la potenza Per aver superato questo round Ma scusa non possiamo aprire da bagno? Eh il Thermite non fa niente Sto per pulire eh Uno Occhio Turi Turi occhio Occhio anche scale Turi Occhio da qui Lesion E da scale Caveira penso Raga aprite il cazzo di cazzo Preso Lesion Qua qua il cazzo da me Non riesci a passare Preso Doc Sì Raga Sì Guardate come scappano Sti farabutti Fatica ragazzi Siamo a una Una vinta Eh io lo uso volentieri Per quello non lo posso Nooooo Quale corridoio era? Non è vero Poi fuori hanno tolto tipo 15 finestre Ok adesso sono qua Sanno in due La riesci a guardarla Cam? Io Sì Se gli esci te li fai E' entrato in montagne Da dove? E' entrato davanti a Turi Raga arriva da me Milan esci Milan esci Milan Vai C'è una turist Un no 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 scoperto la mossa del secolo, dai c'è anche gli altri due, sono tutti due qua da me Lufia e Giaka Giaka ha pochissima vita preso la conoscevano già tutti hanno già fatto tutti quel passaggio e va bene, pensavo di essere un innovatore abbiamo fatto la botola perfettissimo la raga son chiuso fuori hanno Twitch vieni che ti apro dai ci sei? cobaleni ti facevo eh ma raga si devono vedere l'altro andiamo tu lo tocco, si devono vedere l'altro dove cazzo hanno buttato mamma mia c'è un altro qua allora nooo arriva da lì Matt vuoi vedere l'ultimo l'ho pigliato guarda qua che ve ne escono sono due da scale ne ho fatto uno quale scale? eh quelle di bomba dietro ecco da lì non è vero non l'ho preso una volta le ho feriti tutti ma mai alla testa bella ragazzi bravi bravi tutti ma sono tutti dentro no no figlio di puttana è la lo pulisco igiene dentale turi mi voglio chiamare l'arma ancora pruno cinque assis cava sta merda grazie a tutti